Gianluca De Candia, buongiorno. Buongiorno a voi. E benvenuto, anzi bentornato qui nel posto delle parole per raccontare, seppure nella brevità di questa conversazione, un libro complesso, interessante, curioso e anche necessario perché la parola forse è una parola necessaria a tutti e il libro si intitola Il forse bifronte. L'emergenza della libertà nel pensiero di Dio, ecco questo sottotitolo, un sottotitolo molto ambizioso, l'emergenza della libertà, il pensiero di Dio, come si attraversano queste due cose, lo andremo a comprendere fra poco, il libro è pubblicato dalla casa editrice Mimesis. Leggo in quarta di copertina che Gianluca De Candia ha studiato filosofia e teologia all'università, alla facoltà teologica pugliese, all'università Aldomoro di Bari, poi la Gregoriana di Roma, borsista dell'Alexander von Humboldt-Stiftung, ha conseguito l'abilitazione in questioni filosofiche della teologia all'università di Münster. Quali sono queste questioni filosofiche della teologia? La costringo a una risposta veramente breve, Gianluca De Candia. Ma la vedremo adesso che parliamo del forse, siamo nelle questioni di confine fra filosofia e teologia. Confine tra teologia e filosofia, e questo è un confine molto labile. Oggi come oggi credo, e mi correga Gianluca De Candia, non possiamo, e forse non è mai stato propriamente così, non possiamo parlare solo di filosofia, solo di teologia, poi chiudere il cassetto e pensare ad altro. Oggi sempre di più le discipline vivono un effetto osmotico, perché forse è necessario avere questo passaggio, seppur nel profondo rispetto della conoscenza filosofica, della conoscenza teologica, ma sembra che oggi come oggi ci sia l'urgenza di fare ricorso sempre di più ad altro, per arrivare a una comprensione. Che cosa ne pensa? Sì, io penso che la realtà è diventata estremamente complessa, la realtà sociale, la realtà culturale, per cui abbiamo bisogno di ermeneuti, e l'ermeneuta è il traghettatore fra due sponde, per cui l'ermeneuta può essere il filosofo, può essere il teologo, il sociologo, il letterato. Abbiamo bisogno di persone che sappiano far parlare fra loro mondi che di per sé non si parlerebbero, per poter rischiarare quanto più i diversi fenomeni che ci si presentano con una complessità davvero inedita rispetto all'Ottocento, rispetto anche ancora al Novecento. Ora è chiaro che la complessità Gianluca De Candia c'è sempre stata, però oggi il tempo ci pone di fronte a una complessità sicuramente diversa e man mano che si procede le complessità saranno sempre maggiori. Il fatto è che noi della complessità, mi permetta di dire questa cosa, della complessità spesse volte non ce n'importa niente. Noi oggi abbiamo dalla parte nostra la semplicità, d'altra parte sì ho bisogno di sapere che ne so, quando è morto Giulio Cesare, digito due cose e il motore di ricerca mi dà una risposta, ed è qui la semplicità, tanto per fare un banalissimo esempio, però questa è una semplicità che ci fa entrare in un cappio da cui non usciamo. Noi dovremmo forse comprendere che la semplicità è null'altro che una complessità risolta. E qui entriamo proprio nel vulnus. Come risolvere la complessità da parte della filosofia, della teologia per esempio? Dipende di quale complessità parliamo. Per avvicinarci al tema del libro, uno dei temi più complessi certamente è quello di Dio e anche lì bisogna appunto ascoltare anzitutto la voce dei competenti. Questo vale sia per le questioni, per quanto riguarda le grandi questioni esistenziali, sia per quanto riguarda le questioni che ci riguardano in particolare in questo tempo per il coronavirus, le grandi questioni sociali. La semplificazione, la tendenza è quella di ricorrere a soluzioni pret-à-porter di facile portata, come per esempio le diceva Google, è di cercare di affrontare la complessità con semplificazioni. Questo tipo di bisogno è comprensibilissimo, davanti a quanto più è complessa la società o i fenomeni, tanto più l'uomo tende, anela quasi, a soluzioni facili, per cui grandi fenomeni politici di grande rilevanza, faccio un esempio, le immigrazioni o la complessità, la multiculturalità, sono fenomeni complessi di complessa gestione e l'uomo può tendere a prediligere soluzioni politiche estremamente semplificative perché con dialettiche del tipo stranieri italiani, dentro, fuori, palazzi, piazze, questo tipo di dualismo e di nuovo manicheismo che viene adottato sistematicamente da movimenti che davanti alla complessità cercano la semplificazione. La soluzione non c'è, c'è un'accortezza che è quella di affidarsi, come lei diceva molto bene, dicendo appunto è una complessità risolta, di affidarsi a chi nei diversi campi è esperto delle diverse questioni, delle diverse materie. E qui entra giustamente in campo la parola forse, perché nella complessità il forse ha un protagonismo essenziale, Giacomo Leopardi diceva il forse è la parola più bella del vocabolario italiano, perché apre delle possibilità, non certezze, perché non cerca la fine, ma va verso l'infinito. Gianluca De Candi, anche noi vogliamo tendere a questo infinito attraverso la parola forse, però ci sono altre parole che sembra che non ci vadano bene per tendere all'infinito, ovvero l'emergenza della libertà. Ecco, in che modo? Sì, allora anzitutto questa bella citazione è attribuita a Leopardi e disperatamente ho cercato una fonte, ma non l'ho trovata, non c'è traccia nelle sue opere. Probabilmente la si ascrive a lui perché tanti dei suoi canti, delle operette morali iniziano proprio con un forse e naturalmente lui è l'autore dell'infinito, una delle liriche più famose. Ma al di là di questa precisazione, la citazione si presta bene a esprimere l'idea di questo saggio, così come anche il sottotitolo, ma ci arrivo. Il forse apre delle possibilità, non certezze, non cerca la fine, ma va verso l'infinito. Il lettore che aprirà questo saggio vedrà come in una galleria di ritratti, accessibile anche a chi da tempo non frequenta più la filosofia, vedrà come a partire dalla modernità, a monte di ogni prova dell'esistenza di Dio o anche di ogni rifiuto dell'esistenza di Dio, vi sia una scelta, una scelta previa che io chiamo forse interpretativo, che può essere positivo o negativo. Che cosa intendo per forse interpretativo? Proviamo a fare questo esercizio. Ogni volta che noi utilizziamo l'avverbio esprimiamo un'interpretazione e ancora di più se noi parliamo di grandi questioni come per esempio Dio, la vita dopo la morte, l'amore o il rapporto fra le religioni, spesso introduciamo il nostro giudizio con l'avverbio forse, forse sarà così. Ma a ben guardare questa interpretazione non è legata a un atto di cogenza razionale, logica, analitica, ma esprime un atto di libertà ermeneutica. E io mostro nel saggio come a partire da Cartesio, ma poi passo in rassegno la scommessa pascaliana, Kant, Jacobi, Schelling e la filosofia dopo Nice e Heidegger, in particolare quella italiana, Paraison, Umberto Eco, Gianni Vattimo, Ugo Perone, Claudio Ciancio e Massimo Cacciari, in questa linea di pensiero diventi sempre più decisivo il momento della libertà del lato metafisico. E questo ancora di più quando si tratta di affermare o negare Dio. E paragono questo forse a un'erma bifronte. Perché? Perché ogni forse presenta una doppia faccia. Può essere un forse che sì o un forse che no. Un forse maggiore, che invita a credere che tutto potrebbe essere, oppure un forse minore, che invece nega, espone tutto allo scetticismo, alla minaccia che nulla sia vero. Ecco. Ma il punto interessante nel libro e anche, diciamo, nell'analisi poi dei diversi pensatori, è che entrambe queste tonalità sono coesistenti in ogni forse. In altre parole, il forse minore ha alle spalle quello maggiore. Non può negare che quella possibilità sussista sullo sfondo, seppure come opzione scartata. E la stessa cosa vale per chi invece punta positivo, vale per il forse maggiore. E da un punto di vista filosofico è interessante ammettere che la ragione non può abolire una volta per tutte questa tensione, fra le due ipotesi in contrasto. Eppure potrà cogliere liberamente l'eventualità maggiore. Perciò, ecco il sottotitolo, l'emergenza della libertà nel pensiero di Dio. L'emergenza è da intendersi nel doppio senso, cioè nel senso appunto che ho spiegato adesso storico, la genesi di questo pensiero di Dio, di questa metafisica della libertà da Cartesio a Cacciari, ma d'altra parte l'emergenza nel senso del bisogno della libertà, dell'impellenza, dell'urgenza della libertà. Dio è la risposta a un'impellenza, a un'emergenza della libertà, che muovendo da interrogativi propri del mondo etico, del mondo fenomenico, che ci riguardano da vicino, solleva lo sguardo e in Dio la ragione riconosce l'istanza, un'istanza che può rendere ragione del perché in noi c'è la domanda che cosa posso sperare. Perché l'uomo agogna fino all'agonia al compimento delle sue attese? Anzi, quanto più la realtà ci risulta contraddittoria, tanto più qualcosa anela in noi alla sintonia, fra interiorità ed esteriorità, fra dare e avere, fra sentirci a casa ed essere aperti verso lo straniero, qualcosa in noi anela a questa sintonia irraggiungibile. E Dio, per la filosofia, ma anche per la teologia, si configura come il garante di questa attenzionalità, di questa pulsione della ragione. Poi chiaramente si può benissimo negarlo, è legittimo e questo ci rende agnostici. Gianluca De Candia, facciamo un passo indietro e noi dal momento che ci chiamiamo il posto delle parole, nelle parole, come ci piace dire, amiamo inciampare. Lei anche in questo suo saggio si sofferma sul significato della parola forse, andando indietro a farci scoprire l'humus, l'etimologia di questa parola, per capire esattamente di che cosa si tratta. Sì, all'inizio proprio ripercorro brevemente l'etimologia del forse, del forse italiano, che deriva dal forse it latino, che ha le spalle il forse sit, cioè sia il caso, può darsi che. La cosa interessante è che la radice, facendo appunto ricerche approfondite dell'etimo, viene dal verbo fero, che significa portare, portare in grembo, da cui anche force, fortuna, nel senso di portato dal cielo. E questo elemento di possibilità positiva è presente anche negli equivalenti inglesi, maybe, peut-être in francese. Il phillite tedesco, il forse tedesco, invece, ha piuttosto un'altra radice e ha a che fare con qualcosa di molto facile. Ho analizzato anzitutto etimologicamente il retroterra linguistico della parola per mostrare che certamente il forse è un avverbio dubitativo, ma non è uno scetticismo assoluto. Il forse non è immediatamente indice di uno scetticismo assoluto, che negherebbe assolutamente. No, invece tiene aperta la doppia eventualità. Tiene aperta la doppia eventualità. E a partire da questa intuizione ho ripercorso la dialettica del forse bifronte, forse maggiore e forse minore, rileggendo autori che appunto da Cartesio giungono a Cacciari e mostrando come, anche se loro non lo ammettono e non usano nemmeno l'avverbio, la dialettica che è dietro il loro pensiero di Dio è una dialettica del forse, forse maggiore o forse minore. Ecco, lei comincia questa sua ricerca nel forse bifronte con quella che lei definisce la frattura cartesiana, perché Cartesio, che piaccia o no, ha creato un presupposto su cui poi altri filosofi, a cominciare da Kant, hanno posto le basi sull'essere. Ecco, questa ricerca nasce da quale esigenza, Gianluca De Candia? Nasce da un'esigenza, è una domanda chiaramente che è previa alla stesura del libro, da un'esigenza di risposta a un fenomeno che secondo me è attualissimo, che è l'agnosticismo. Livio, le racconto questa scenetta. Stazione di Erfurt, io vivo in Germania, lo sto chiamando da Münster, stazione di Erfurt, quindi est della Germania, due giovani universitari vengono raggiunti da un intervistatore che chiede, siete atei o credenti? E loro, con la spontaneità di chi risponde a freddo, dicono, no, siamo normali. Io penso che questo è, almeno qui in Nord Europa, ma io penso nel frattempo anche in Italia, al di là della patina di ipocrita religiosità, in fondo il fenomeno nuovissimo è quello dell'agnosticismo. Cioè il sospendere un giudizio, no? Non scegliere una parte. Normali. Siamo normali. Col cuore, l'hanno detto, col cuore in mano, cioè senza nessuna cattiveria. Siamo normali. Che cosa vuoi tu? Ateo o credente? Ora, io penso che un tale fenomeno che è l'agnosticismo, che scrivo alla fine del libro, nella postiera non scientifica, coinvolge anche i credenti, coinvolge anche chi si definisce credente. Qualcosa in noi, mettiamola così, è molto agnostica oggi, anche di chi crede. Questo fenomeno ci costringe come filosofi e come teologi, filosofi che hanno un pathos per Dio o per il cristianessimo, a riscrivere la soluzione vecchia che avevamo, cioè quella del dubbio, che Cartesio inaugura, già Agostino, ma Cartesio ha ripreso, il dubbio cartesiano, che è una presa in giro, è un trucco barocco, come scrivo. In realtà il dubbio suppone una fede che tu avevi, che hai perduto, che è entrata in crisi. Ma chi avevi? Invece oggi nessuno ha perduto niente per strada. Come scrive un caro amico Armando Matteo nella prima generazione in credula, la generazione ormai, che è anche quella successiva la mia, è nata in credula, ma forse anche già la mia. Non è che abbiamo bevuto da latte materno la fede, come i nostri nonni. I figli dei sessantottini sono agnostici, i nipoti ancora di più, i pronipoti non ne parliamo. Quindi non c'è il dubbio della fede, c'è piuttosto un ilare agnosticismo. D'altra parte sono spariti grandi atei. Magari trovassi qualche ateo come si deve, quelli di un tempo, quelli dell'illuminismo, quelli che negano razionalmente l'esistenza di Dio, che ti dicono io ti dimostro che Dio non esiste. Non hanno neanche i nervi più, gli atei, di dimostrare l'inesistenza di Dio. Invece il fenomeno è quello dell'agnosticismo. E la scommessa teorica, teoretica, è che di fronte a questo nuovo fenomeno, da una parte io mi sono interrogato sulla genesi filosofica di questa denk form, di questa forma di pensiero che è diventato sentimento di vita oggi. E ne traccio la storia da Cartesio a Cacciari, passando per Ecovattimo. Dall'altra l'invito è quella pensare invece a una filosofia del forse maggiore, che è ben diverso, perché il forse corrisponde con la sua logica bifronte a questa bifronte indifferenza dell'agnosticismo odierno. Sì, Gianluca De Candia, qui il problema è veramente ricco di possibilità, di elaborazione, di pensiero. Mentre lei diceva le sue parole mi veniva in mente la teologia della crisi. Ecco, di fronte a questo agnosticismo, questo senso, neanche ateo, che oggi viviamo, in che modo la teologia risponde a questa crisi? Diciamo, questa è questa appunto la sfida che io cerco di lanciare, è una proposta che timidamente come filosofo faccio. Diciamo, davanti a questo fenomeno in cui l'agnostico né afferma né nega Dio, né egli desidera che il cristianessimo sia vero, né è lieto che non lo sia. Davanti a questo tipo di indifferenza, la forma, sul livello filosofico, ho cercato di farlo in questo saggio, ma poi sul livello teologico, bisognerebbe sviluppare una teologia del forse maggiore. Che cosa vuol dire? Cioè sviluppare una mistagogia dell'approssimazione che sappia mostrare attraverso una meditazione delle esperienze fondamentali della vita, di diversi loci teologici, l'amicizia, l'amore, la ricerca del lavoro, la ricerca del proprio destino, la ricerca della propria vocazione professionale, il senso del proprio lavoro stesso, ma anche la letteratura, l'arte, i diversi loci dell'esperienza umana, mostrare attraverso una meditazione su questi loci la possibile apertura a Dio, che c'entra Dio con l'amore di coppia, che c'entra Dio con l'amicizia, che c'entra Dio col mio lavoro, che c'entra con l'arte, la trascendenza meglio, che cosa c'entra? Qui ci vogliono davvero un esercito di sacerdoti, di preti e di teologi che siano maestri di letteratura, maestri di arte, maestri di filosofia, ma che siano prima di tutto innamorati di Dio e che sappiano dimostrare, mostrare, non dimostrare, la plausibilità di accettare l'ipotesi che la morte abbia a che fare con Dio, che l'amore di coppia abbia a che fare con Dio, che l'amicizia, la nascita di un bambino, la malattia abbia a che fare con Dio, perché mi conviene di più. La sfida è che devono essere così bravi da mostrare la plausibilità maggiore di ammettere l'ipotesi il forse maggiore piuttosto che il forse minore. Ne abbiamo parlato tempo fa del mio rovescio del Vangelo, dove tentavo di fare questo sul piano letterario, ma anche nel libricino sulla Trinità, dove mostravo appunto l'esperienza dell'amore di coppia, rapporto madre-bambino, rapporto di amicizia, lo stesso peccato, come un'espressione della distonia, dell'amore trinitario, ma mostrandolo con esperienze concrete che affondano nella psicologia, nella competenza psicologica, letteraria e così via. Diciamo, questa sarebbe una fenomenologia teologica di cui oggi, credo, abbiamo estremamente bisogno. Eh sì, oggi abbiamo bisogno di arrivare a incontrare la complessità e di cercare, perché poi è l'impegno, certo non è semplice, ma non è semplice per nessuno, non è semplice per i filosofi, teologi, non è semplice anche per noi persone che di filosofia e teologia poco sappiamo, ma abbiamo tutti l'impegno di guardare verso questo obiettivo, che poi è la ricerca di una parola, no? La ricerca della verità e tutti quanti la possediamo la verità, ma la verità è quanto mai più di plurale. Lei tra l'altro, a proposito della verità, ricorda il filosofo scomparso venti anni fa e mi fa piacere ricordarlo, Luigi Parenson, quando dice che della verità non c'è che interpretazione e non c'è interpretazione che della verità. Questo è un atteggiamento che entra proprio nella parola forse, perché l'interpretabile è il forse. Giusto, è l'atto interpretativo il forse, giusto, sì sì, ed è l'unico modo che abbiamo per accedere alla verità, l'atto interpretativo è l'unico luogo in cui la verità si dona, non troviamo una, non è, la verità non è l'esito di un rebus, di un cruciverba, dobbiamo quindi rispondere a tutte le domande e alla fine abbiamo la soluzione, sarebbe noiosissimo se la verità fosse questo, quindi l'esito di un ragionamento logico, matematico, analitico. La verità invece è un evento che accade, come in questa conversazione, come diceva già Platone, è un attraversamento del logos, dialogos, che accade in fondo nel discorso orale e nell'atto interpretativo, che io do adesso del fenomeno dell'agnosticismo, lei a partire dalla complessità che ci riguarda e qualcosa della verità accade. La grandiosità di Pareson è che lui dice che tutta la verità si dà nella tua interpretazione. Questa è una cosa che potrebbe far paura. lui dice non è che un pezzettino della verità, tutta la verità dalla tua prospettiva, che allo stesso tempo è tutta ma inesauribile. Qua c'è secondo me l'idea geniale di Pareson. Non è un pezzettino della verità, non è come la celebre storiella indiana che ci sono tanti ciechi intorno all'elefante che è la verità, citata da Ratzinger, e quindi ognuno tocca un pezzo e dice l'elefante è la zampa, è la zanna, è la coscia, è la coda. No, Pareson dice tutto l'elefante, tutta la verità è nella tua personale interpretazione di un fatto, tutta. Ma non devi, come dire, illuderti che tu hai in mano la verità, che l'hai in tasca, ma è inesauribile quella verità. E su questo io mi dedico molto tempo all'indagine di questo assunto paresoniano mostrando come nella destra paresoniana, cioè negli autori per così dire di destra, cattolici o quantomeno vicini al cristianessimo, Claudio Ciancio e Ugo Perone, questa forma riceve una declinazione. Negli alunni di sinistra, Gianni Vattimo e Umberto Eco, la stessa idea riceve un'altra declinazione. Naturalmente va verso un pensiero debole, probabilista e come nei romanzi di Eco mostro anche, si perdono le tracce in fondo della verità e tutto si riduce a interpretazione. All'inizio della conversazione Gianluca Tecane ci parlava della necessità speculativa, di ricerca e di ricerca ontologica. Nel saggio che Cacciari pone in questo libro si va a incontrare due cose importanti. È chiaro che in questa brevità di conversazione diamo solo degli accenni, però credo che siano necessari. In tutta questa complessità, in questa parola forse, come sta la differenza tra la cosa e la parola? Fra la cosa e la parola. Certamente è una questione ontologica fondamentale che adesso tocca alla fine del colloquio. Certamente ci sono due possibilità. È che noi guardiamo il mondo come attraverso un vetro di una finestra, che ha certamente dei raschi, delle macchie, però abbiamo l'idea che il mondo che guardiamo, quindi la nostra parola, corrisponde a un oggetto che esiste fuori di noi. Questa è una possibilità filosofica, empirica, l'empirismo. L'altra, che il razionalismo dice no, non guardiamo il mondo attraverso un vetro, guardiamo il mondo attraverso uno specchio, per cui noi riflettiamo noi stessi nella riflessione dello specchio. E le parole sono, diciamo, ciò che noi definiamo tazza, non è la tazza, ma è il fantasma che si dice, il fantasmata, che ho nella mia mente. Ci sono due forme che poi, una ha dato appunto luogo all'empirismo, di una realtà oggettiva che è fuori di noi, che noi nominiamo, e l'altra razionalismo con tutte le sue sfumature, fino alla negazione anche del, come fa Eco appunto alla fine del romanzo Il nome della rosa, e poi nella sua semiologia, dell'esistenza della cosa in sé. Per cui tutto nomina nuda tenemus, il nome della rosa, alla fine che cosa è la rosa? È appunto solo il nome, non c'è più la rosa e l'oggetto. Poi è vero che Umberto Eco ha anche avuto una svolta e lui dice no nel famoso saggio Opera Aperta, che è lo stesso problema. Opera Aperta, che è appunto un saggio estetico, gli dice no, no, un momento, l'opera d'arte si è aperta a mille interpretazioni e tuttavia rimane un'opera, un dato, un oggetto, che è anche chiusa. E in che senso è chiusa? Nel senso che qualcosa di quest'opera fa resistenza. C'è una resistenza ontologica che ci costringe a dire bene, quest'opera non è certamente una tazza o non è un bicchiere, è un quadro. Quindi il discorso è ampio. C'è stata una tendenza appunto quella del pensiero debolissimo, del debolismo debole, che portava quasi alla sparizione dell'oggetto a nome del nome e poi Eco ha avuto la sua svolta. Ma d'altra parte oggi in Italia, in Italia anche in Germania, c'è un altro fenomeno filosofico che è quello del nuovo realismo di Maurizio Ferraris e in Germania Marcus Gabriel, che invece adesso come contropeso sottolineano invece l'oggettività dei dati, l'oggettività dei fatti dopo l'11 settembre. Io vorrei chiudere questa conversazione Gianluca De Candi a proposito di questa conoscenza dell'essere a cui lei faceva riferimento. Chiuderla nel pensiero di Dio e qui la cosa a proposito di complessità si fa complessa all'ennesima potenza. Però ci vengono in aiuto le parole di Bonhoeffer. Trovare Dio in ciò che conosciamo, non in ciò che non conosciamo. Dio vuole essere colto da noi non nelle questioni risolte, ma in quelle risolte, perché Dio non è un tappabuchi. Non deve essere riconosciuto solamente i limiti delle nostre possibilità, ma al centro della vita. Ecco. E qui in queste parole la parola forse è che spazio ha se poniamo Dio al centro della vita. Grazie per questa bella conclusione, che è tratta appunto dalle pagine Superone, nel contesto appunto di una, appunto lo ha cito, nel contesto di una filosofia, di una teologia del forse maggiore. Cioè di Dio non si deve parlare ai limiti della vita, nel peccato, nel male, nella morte, ma nella gioia della vita, nel pieno della vita, nel tessuto della vita, che è la freschezza, la gioia, lo slancio vitale. Quindi contro un cristianessimo che per troppo tempo ha, come dire, ha etichettato, ha parlato male del piacere, della pulsione positiva, dell'espressività, un cristianessimo fattivo, pratico, Bonhoeffer propone invece un cristianessimo che sappia trovare nel positivo, nel godimento, nella gioia, nell'amicizia, nell'amore, al centro della vita, nel bello Dio. E questo sarebbe per me appunto, e così concludo, una filosofia del forse maggiore, ma ancor più, per i teologi, una teologia del forse maggiore. Prima di salutarci, Gianluca De Candia, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? In questi giorni sto traducendo in tedesco il libro Verità e interpretazione di Luigi Pareson che apparirà l'anno prossimo per Meiner Ferlag. Quindi non ho purtroppo il piacere di una lettura di intrattenimento, ma sto soltanto leggendo disperatamente, appassionatamente il testo italiano e soprattutto, diciamo, disperatamente per quanto riguarda la traduzione. Quindi sto facendo questo. Luigi Pareson, ricordo, scomparso vent'anni fa, nato in provincia di Cuneo, in un piccolo paese dove tra l'altro sono passato proprio ieri e mi fa sempre piacere passare in quel paese e ricordare il paese Piasco e ricordare la figura di Luigi Pareson. Grazie, grazie davvero Gianluca De Candia per il tempo che ci ha dedicato. Grazie a lei.